e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo film che mi è arrivato in blu ray e sto parlando di Animars United, la battaglia per la sopravvivenza è appena iniziata, eccolo qua, Animars United, questa è la copertina Animars United aiuta il WWF a salvare le specie animali a rischio di estinzione, bellissima iniziativa comunque ragazzi questa è la copertina qui abbiamo il laterale, Animars United questo è il retro, animali di tutto il mondo, unitevi qui abbiamo i contenuti speciali, ecco qua un po' di contenuti qui abbiamo la trama, alcune immagini del film, varie informazioni e questo è il retro andiamo a vedere un po' l'interno, tutto bianco con il disco qui che è uguale alla copertina Animars United, film che devo ancora vedere e niente ragazzi, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli